Adesso c'è un momento particolare, ma è particolare perché c'è una persona piccolina che si esibila insieme a me. O voi dite, ma chi è? Vi posso presentare il piccolo Matteo di Costanzo. Allora, dovete sapere che Matteo è un mio cuginetto, è figlio di Antony e Lucia, a quali pare una parola solo che hanno fatto più di una mia. Matteo è un piccolo maestrino, ma in che senso? La sua maestra è la maestra Teresa Coppa, che non ha bisogno di questo caso. Teresa è stata anche la mia prima insegnante, io sono stato da Teresa una decina d'anni e ho legato a lei tutti i miei ricordi di infanzia. I primi concertini, l'amore che mette lei nell'insegnamento è smisurato e si vede anche nei bambini. E Matteo, la seconda sera abbiamo fatto la prova, mi è venuto vicino, mi sono spontanea quella andata, e vi sembrava strano? Io mi è venuto vicino, mi ha fatto già un rito, ma quasi pure un po' arrabbiato, perché il zappo io dicevo di no. Ha detto, noi la sera del concetto dobbiamo suonare in quattro mani insieme. Va bene, lo facciamo, non c'è problema. E mi ha proposto questa canzone che vi facciamo sentire. Ok, giudicate voi maestro, Matteo di Costanzo. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. però voglio dire che il papà con cui io stesso ho suonato, suona la batteria divinamente, bravissima faccimi un applauso di un'altra musica, un'altra musica, un'altra musica, un'altra musica, un'altra musica anche attraverso la musica, come queste sono state allevate la batteria, facci un'altra musica allora adesso c'è un altro pezzo che fa parte della Christian music che significa, scusatemi, devo trovare un attimo le parole si chiama Surrounded e dice che all'interno di tutti i messaggi che stiamo dando, dice io voglio essere circondato si riferisce al Signore che sta cantando questa canzone, dice non è che voglio essere solo circondato da te io voglio essere dentro di te, che tu sei dentro di me e questa canzone è come un mantra per le persone che partecipano a queste celebrazioni che non so se avete mai visto anche in televisione e non sono celebrazioni, sono dei concerti al cielo aperto con sacerdoti insomma che non sono solo sacerdoti ma anche cantanti, che sono anche, diciamo shomen non è una parola in propria e cercano di dare il giusto messaggio attraverso le parole della canzone Surroundi, Adele, Arcancio Lotto Grazie 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 This is how I fall in my path This is how I fall in my path It may look like I'm surrounded by the arms around the bayou It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you This is how I fall in my path Is this our fight, my man? Is this our fight, my man? Is this our fight, my man? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti